...potenzialità che dobbiamo solo migliorarle per offrirle al nostro territorio, ai nostri cittadini, alle nostre imprese. Saranno pure scomodati, Presidente, ma hanno avuto belle cose da vedere comunque. Sicuramente sì, sono rimasti impressionati da questa città eterna, questa Roma bellissima. Le voglio parlare di sanità, Presidente. Il Consiglio di Stato in questi ultimi giorni ha stabilito un principio che riguarda questo territorio molto da vicino. In pratica ha detto che l'interesse della collettività, cioè della gente, ad avere un nuovo, moderno, funzionale, organizzato, efficiente ospedale è un interesse che supera l'interesse che hanno due ditte a stabilire chi delle due ha ragione a portare i macchinari dentro questo ospedale. In pratica il Consiglio di Stato ha detto, aprite l'ospedale, poi chi doveva delle due ditte in causa mettere i macchinari dentro si vedrà quando si entrerà nel merito, se eventualmente è giusto che abbia vinto quella che ha portato i macchinari, finisce così. Se doveva vincere quell'altra, gli verrà dato un adeguato risarcimento. Ora, il centrosinistra vi accusa di essere degli incapaci che vi hanno lasciato sotto periodo elettorale un ospedale pronto per essere inaugurato. Lo ha detto lei? Mi dice un po'. Lo ha detto lei? Che cos'è? Il centrosinistra? Io glielo dico giuridicamente, lei politicamente? Il centrosinistra, al centrosinistra vanno riconosciute delle cose perché dobbiamo essere onesti. il centrosinistra ha realizzato questo ospedale, però quando accusa il centrosinistra, accusa il centrodestra, sono ingenerosi perché, come ha detto lei, se il Consiglio di Stato ha sbloccato questa faccenda solo dieci giorni fa, come potevamo aprire un ospedale? Era impossibile, anche perché mancavano alcune autorizzazioni che abbiamo sbloccato. E allora io penso, certo che sì, si apre, perché stiamo anche ottenendo le deroghe. Con il DEA o senza DEA? Intanto apriamo l'ospedale, perché è necessario. Poi tutti insieme dobbiamo fare la battaglia per portare il DEA di secondo livello a Frosinone. Prima l'ospedale, poi il DEA se ne può parlare. Certo, perché il DEA ha bisogno, perché dobbiamo spiegare alla gente cos'è questo DEA di secondo livello, è un DEA di primo livello, perché qui si parla e la gente non riesce a capire cos'è un DEA di primo livello e un DEA di secondo livello. Provo a dirlo io, tecnicamente lei mi aggiunge poi politicamente, tecnicamente è una serie di servizi, un DEA, che sono servizi speciali sull'emergenza. Scegliamolo in modo semplice. Di fronte al pronto soccorso, in caso di incidente stradale, con un incidente grave, vi mettono in elicottero e vi portano a Roma. Perché quei servizi sono solo nei grandi ospedali romani. Sono servizi di DEA, dipartimento, emergenza e accettazione, cioè quelli che affrontano la situazione di emergenza dopo una situazione grave. Si dividono in primo o secondo livello, a seconda della gravità del caso. Costano tantissimo, per questo ci vuole almeno un milione di abitanti affinché si assorbano questi costi. Per darvi l'idea, tra Frosinone e Latina, messi assieme, facciamo un milione di abitanti. C'è questo progetto, centrosinistra e centrodestra, adesso litigano si fa, non si fa a Frosinone, il DEA di secondo livello. In pratica, per il 50% dei casi per i quali oggi vi mettono in elicottero e vi portano a Roma, se si fa il DEA di secondo livello a Frosinone, invece di mettervi in elicottero, vi portano direttamente a Frosinone. Se è un caso proprio disperato di primo livello, allora si va a Roma. Secondo il centrosinistra, il centrodestra che oggi è alla regione, non farà il DEA di secondo livello. Ma intanto non lo abbiamo, non è che il centrosinistra ci ha lasciato il DEA di secondo livello. Per fare un DEA di secondo livello ci vogliono i soldi, ci vuole il personale specializzato, lei parlava di servizi altamente specializzati. Abbiamo bisogno di una struttura adeguata per fare il DEA di secondo livello. Come abbiamo bisogno di fare il DEA di primo livello a Cassino, che ancora non c'è, come abbiamo bisogno di fare il Polo Oncologica Sora, che ancora non c'è. Allora il problema dove sta? Non è che noi abbiamo ricevuto in dote dal centrosinistra un documento programmatico in cui si prevedeva questa organizzazione della rete ospedaliera con i fondi, perché è troppo semplice parlare. Io sento e leggo i giornali che tutti si stracciano le veste per difendere l'ospedale di Ponte Corvo, tutti si stracciano le veste per difendere i primi soccorsi di Ceprano, di Ferentino, di Atina, e poi nessuno ci va, perché tutte queste persone che difendono queste strutture, che non funzionano, perché non funzionano, perché abbiamo la peggiore sanità del Lazio in provincia di Frosinone, sono i primi poi ad andare a Roma a curarsi, a far curare i propri familiari. Allora noi dobbiamo produrre invece, abbiamo il dovere di dare una risposta ai nostri cittadini, soprattutto a quelle persone che non hanno la possibilità di scegliersi una sanità migliore. E questa è la sfida del futuro, non il populismo, non accusarci null'altro, perché qui non si chiuderà nessun ospedale nella provincia di Frosinone, ma verrà riconvertito una serie di servizi, perché non è pensabile, alle soglie del terzo millennio, puntare su una sanità di quantità. Noi questo poteva andare bene vent'anni fa, oggi abbiamo bisogno di una sanità di qualità, sapendo che ricoverarsi in ospedale significa una garanzia, e sviluppare, sviluppare, chiude, sviluppare soprattutto l'assistenza territoriale, evitare di intasare i pronti soccorso, evitare di assumere dei ricoveri impropri che costano alla collettività tanti soldi. Poi da un lato si lamentano perché la Regione aumenta le tasse, perché se noi produciamo un deficit sanitario abbiamo il dovere poi di trovarci la copertura finanziaria che passa attraverso l'IRAP, che colpisce le imprese, soprattutto in un momento difficile come questo, e l'addizionale IRPEF che colpisce le famiglie. Oggi stiamo vivendo un momento difficilissimo, le famiglie non riescono più a vivere, in ogni famiglia ci sono i disoccupati, i padri e i figli. E questa è la responsabilità che deve assumersi la politica, non accusarsi null'altro. Io ho assistito anche a un dibattito sull'ospedale di Ponte Corro, l'ospedale di Ponte Corro non chiuderà l'ospedale di Ponte Corro, però dobbiamo essere seri, non possiamo avere i pronti soccorso con un unico medico, perché significa volere la morte sicura di chi si ricovera. Un attimo che ci arriviamo, prima però devo spiegare una cosa a casa, mi aspetterei, e adesso glielo domando, dal presidente abruzzese e dagli altri politici che in questa stagione verranno in questi studi, di rispondere a una domanda molto molto pratica, i numeri, il conto della serva. Prima dicevamo non lo spiegare che cos'è il DEA, serve almeno un milione di abitanti affinché il DEA possa funzionare, cioè sono gli abitanti delle province di Frosinone e Latina messi insieme.